Junior e senior maschi per questi 10.000 metri punti ed eliminazione, finale di resca, dal prossimo giro prima assegnazione punteggio. 43, due punti, 9,70, un punto. 43, due punti, 9,70, un punto. 44, due punti, 9,70, un punto. 43, due punti, 9,70, un punto, siamo a meno 43. 9,70, due punti, 43, un punto. 44, due punti, 9,70, un punto. 96, due punti, 9,70, un punto. Prima eliminazione a meno 29. 29, un punto. 9,70, un punto, siamo a meno 30.000, un punto, siamo a meno 30.000, un punto, siamo a meno 30.000, un punto. 19,70, un punto. 14,5 punti, 43,1 punto. Ricchiusa le braccia 23, due punti, 14, un punto Vai Manuel, apri il sinistro Apri la testa No, dal Non basta i cazzati Sunteggio 23, due punti, 90, un punto A meno 23 è stata portata la prima eliminazione Meno 31 al passaggio Entra, entra Stretto Vai chi stai lì Stretto Vai Luca, dai Luca Sunteggio 23, due punti, 14, un punto Vino 29 intanto al passaggio Vino 29 intanto al passaggio 203, due punti 621 punto Costata ancora la prima eliminazione A meno 27 per la testa Ancora più avanti la prima eliminazione Sì, a meno 11 Siamo a meno 25 203, due punti 203, due punti 43, un punto 43, un punto Meno 23 al passaggio Con quello là dentro Mi rivediamo 16, continuate che buono 970, due punti 117, un punto Continua 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 188, due punti 191, un punto All'è, all'è, all'è All'è Quanti video hai da qui? Guarda vai Valenzuari, guarda vai Valenzuari Guarda vai Valenzuari, guarda vai Valenzuari Guarda vai Valenzuari, guarda vai Valenzuari Vai Vai, vai Meno 27 Occhio Prima eliminazione a Meno 9 Occhio Guarda vai Valenzuari Non toccarlo Non toccarlo Continua Continua Arriva Atteccati Atteccati 92 punti Seguilo Seguilo Meno 17 Ai che lo prendi, lo prendi Numero 8 Viene eliminato per Vado Di Vado Vado Deve fermarsi 23 Due punti 23 Due punti 91 Punto Prima eliminazione Vai Valenzuari Vai Valenzuari Vai Vai Valenzuari Vai Valenzuari Vai Valenzuari Vai Valenzuari Segnazione Punteggio Ti mancano i punti Ti mancano i punti Ti mancano i punti Due punti Sì Sì Non matto 91 Punto Vai Bravo Vai Dai Dai Vai Valenzuari C'è l'altra Inizio Un insieme Impeggio Gugno 9.70 Un punto Senti! Un punto al numero 43. Un punto al 9.70, il prossimo giro si elimina, l'eliminazione è alta, il prossimo passaggio. Un punto al numero 96, il prossimo giro è eliminazione. Un punto al numero 42, la segnazione protegge il passaggio. Un punto al numero 43, il prossimo giro è eliminazione. Un punto al numero 23. Un punto al numero 23, il prossimo giro è eliminato, il prossimo giro è eliminato. Un punto al numero 23, il prossimo giro è eliminato. Un punto al numero 23, il prossimo giro è eliminato. Un punto al numero 43, il prossimo giro. Un��amento, il prossimo giro è eliminato. Grazie.